Musica Bella a tutti ragazzi Ben ritrovati in questo nuovissimo video Sono Tony Rosanero e sono qui di nuovo Su Clash O Clans ragazzi Ragazzi Ho da dirvi una bella notizia Qua in quella abbiamo vinto Finalmente Mamma mia Guardate quanto Guardate quanto oro e delisil nero Mamma mia Ragazzi Attacco epico Ragazzi vi voglio far vedere Il mio I miei attacchi Mamma mia Sono stati veramente Di grande fortuna Ovviamente Ah L'amico mio Ha fatto Vabbè lo prendo da qua Eventi guerra Ok Allora Io ho attaccato qua Ecco Ragazzi Guardate qui Solo Quattro Quattro Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ah, ovviamente l'ha fatto... E... no, qua, ecco... Ecco qua! Ragazzi commentate e ditemi che ve ne pare... Di quest'attacco che ho fatto... E... 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 E...